buonasera a nome della società dei naturalisti e del polo culturale di mezzo canone otto sono lieto di presentare il terzo dei nostri incontri come vi ricorderete la il motivo i motivi di tutti i nostri incontri è l'altro mondo e gli altri mondi di dante dante geografo e cosmografo questi incontri si tengono nell'ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di dante e il tema dell'incontro di oggi è particolarmente come dire non immediatamente accostabile alla figura di e dante il titolo lo avete visto sulla locandina quel mar che la terra in irlanda dante e il mare nella commedia e ci parlerà di questo connubio tra dante il mare il professore antonio musarra che sono veramente lieto di presentarvi il professor musarra e docente di storia medievale presso l'università sapienza di roma e fellow di arvard e si è occupato di storia marittima e navale del mediterraneo medievale di storia delle crociate dell'oriente latino e di storia francescana e tra i suoi lavori principali ricordiamo monografie dedicate al rapporto tra genova e le crociate la dominazione latina in terra santa i rapporti tra pisa genova e venezia quindi abbiamo la fortuna di avere con noi un vero esperto della storia marinara del mediterraneo e quindi sono lieto di passare immediatamente la parola al professor musarra non prima di aver ringraziato il dottor remo rivelli che anche oggi è il regista di questo incontro prego professore grazie buongiorno buongiorno a tutti innanzitutto grazie per questo graditissimo invito ringrazio il presidente antonino polio della società dei naturalisti di napoli per aver organizzato questo incontro ma anche un ciclo di incontri che vedere la locandina mi sembra estremamente importante per suggellare questo anno dantesco oggi è il 9 settembre fra pochi giorni avremo l'evento tra passo dantesco fra il 13 e il 14 settembre del nostro nel corso di questo viaggio di andata e ritorno a venezia che sarà come sappiamo per lui fatale oggi vorrei vorrei presentarvi un dante diverso un dante che è soprattutto fonte per una materia forse un po' inusuale per il nostro concetto di medioevo che dai nostri dai banchi di scuola in poi associamo solitamente alla terra ai castelli ai cavalieri a tutto ciò che corrisponde a un immaginario piuttosto terrigino vorrei parlarvi invece di un medioevo prettamente marittimo e marittimo navale se vogliamo utilizzando proprio dante come fonte questo è l'elemento inusuale in effetti dante è una miniera la commedia è una miniera da cui possiamo trarre suggere numerosi elementi numerosi dati relativi alla vita del dei decenni a cavallo fra tredicesimo e quattordicesimo forse l'aspetto marittimo è quello meno conosciuto quello meno no eppure dalla commedia in particolare ma anche dalle altre opere tantesse questa sera anche per ragioni di tempo mi concentrerò soprattutto sulla commedia noi possiamo trarre informazioni in merito a quel mondo marinaro che in effetti scarseggia di fonti e questo è un dato fondamentale ma che in realtà doveva essere altrettanto vivo e vitale come quel mondo terrigeno che solitamente accostiamo insomma i nostri medievali andavano per mare i nostri medievali ma già alla fine del duecento erano ben in grado di escogitare addirittura la circunnavigazione del continente africano basti pensare all'impresa dei genovesi fratelli Ugolino e Vadino Vivaldi che fuoriescono dalle colonne d'Ercole le quali erano tranquillamente oltrepassate da secoli dirigendosi a Meridione e poi scomparendo nel nulla quindi ma non è solo questo pensiamo alla vicenda di quelle che siamo abituati a chiamare un po' malamente repubblica e marinare alla vicenda di una città porto come Genova di un'altra città porto come Venezia di una città con un porto fluviale importante ma con un porto marittimo altrettanto importante come Pisa mi riferisco a porto pisano naturalmente e ai vari porti del meridione tra cui Amalfi, Napoli, Gaeta, Palermo il grande porto di Messina e porti pugliesi parlo soprattutto dell'Italia che è un ponte proteso nel Mediterraneo ebbene queste città hanno una vicenda conoscono una storia marinare estremamente importante testimoniata ahimè da poche fonti è questo il motivo per cui ciò che Dante ci dice in merito al mare in merito la navigazione estremamente preciso come cercherò di dimostrare questa sera è così importante ecco alcune metafore marittime che Dante inserisce nella commedia sembrano essere tratte da l'osservazione diretta del modo di andare per mare su questo vorrei concentrare le mie poche riflessioni professore posso farle una prima domanda un cittadino fiorentino sicuramente aveva a che fare con la navigazione fluviale doveva avere un ruolo importante nel commercio ma poi questa navigazione fluviale in qualche modo si connetteva con quella marina cioè i fiorentini che tipo di esperienza avevano del mare loro che è scarsa a diciamo a lungo scarsa già che tra Firenze e il mare in età dantesca ve il problema Pisa quello che per Firenze è un vero e proprio problema non è un caso se Firenze sia lei con Genova per debellare Pisa tra gli anni 80 e 90 del XIII secolo ma l'aspirazione fiorentina al mare è comunque forte sì che a distanza di un secolo all'inizio del 400 nel momento in cui Firenze conquisterà il porto di Pisa diventerà a sua volta una potenza marinara crescerà una flotta fiorentina ma siamo nel 400 la vicenda della fiorentina si sviluppa nel corso dei primi 6-7 decenni del secolo e non ha grandi exploit come non possiamo naturalmente paragonarla alla flotta veneziana e nemmeno a quella genovese però ha una sua vicenda di viaggi anche importanti e di testimonianze di viaggio nel 400 abbiamo ad esempio il fenomeno dei diari di bordo alcuni di questi diari, Luca di Maso, degli Albizzi ad esempio sono rimasti testimoniando di viaggi anche al di là delle colonne d'Ercole verso le Fiandre e l'Inghilterra per cui dobbiamo spostare questa vicenda in un periodo più avanzato all'epoca di Dante i poli marittimi principali sono quelli tradizionali Genova, Pisa e Venezia da un lato e i vari porticcioli del meridione a quest'altezza già Amalfi ha un ruolo molto più sottodimensionato rispetto all'exploit che aveva avuto tra X e XI secolo Genova, Pisa e Venezia sono sicuramente i punti di riferimento E quindi Dante insomma avrà visto direttamente il mare? Lo avrà conosciuto? Questa è una domanda estremamente interessante io non voglio naturalmente ripercorrere qui l'intera biografia dantesca anche perché non sono un dantista essendo uno storico del Mediterraneo, della navigazione il mio interesse è piuttosto sfruttare quello che ci viene detto da Dante però è chiaro che la domanda non può essere elusa quel che Dante ci dice del mare all'interno della commedia e che cercheremo di spiegare questa sera proviene o no da una sua osservazione diretta della vita marittima della vita dei porti, dei mestieri del mare della costruzione navale, del modo di navigare è una domanda a cui possiamo rispondere guardando ai momenti in cui è possibile che Dante abbia potuto osservare questo mondo peculiare li vorrei brevemente ripercorrere ma senza entrare naturalmente nel dettaglio perché la biografia dantesca è complessa e nonostante i libri recenti è ancora molto, molto discussa per cui non abbiamo la certezza che Dante si sia effettivamente recato in certi luoghi, in certi periodi di tempo per cui diamo solamente qualche indicazione innanzitutto potrei dire che forse dobbiamo per forza usare questa parola il primo incontro di Dante col mare si colloca in quel di Pisa in quel di Pisa quando? Beh, subito dopo la battaglia celebre battaglia di Campaldino siamo all'11 giugno del 1289 qualche tempo dopo, il 6 agosto Dante partecipa a un assedio che è l'assedio del castello di Caprona che si trova sulla via che fondamentalmente da Firenze conduceva a Pisa l'ambito è sempre lo stesso la lotta tra Guelfi, Fiorentini e Ghibellini, Aretini e Pisani ebbene, a seguito della vittoria della conquista del castello l'esercito fiorentino cui Dante al cui interno vi è anche Dante raggiunge una località che si chiama Cisanello che si trova proprio a tre chilometri dalle mura pisane forse questo ma ripeto, la parola è assolutamente necessaria può essere considerato il primo incontro di Dante che è, lo sappiamo, un acuto osservatore della realtà non solo politica anche filosofica e geografica che lo circonda di strutture portuali il primo incontro di Dante con le strutture portualo-fluviali se vogliamo di Pisa che erano allora piuttosto vistose per un motivo molto semplice in piena fase di ricostruzione Pisa ha subito una batosta importante il 6 agosto del 1284 è stata sconfitta da Genova nella famosa battaglia della Meloria forse la più grande battaglia dell'intero basso medioevo quantomeno a livello di numero di navi di morti, feriti e di prigionieri a seguito di questa battaglia tenta di proteggere ulteriormente Porto Pisano e le strutture interne dell'arsenale edificando fortificazioni torri, costruzioni ulteriori Porto Pisano poi verrà distrutto l'anno successivo e certamente di tutto doveva essere doveva dare l'impressione di un gran brulicare di gente impegnata appunto a mettere mano a queste strutture portuali però siamo nel campo delle ipotesi così come siamo nel campo delle ipotesi per quanto riguarda il momento in cui certamente in questo caso lo posso ripetere certamente Dante si rega a Venezia c'è chi pone questo evento nel 1302-1303 chi invece lo postice anticipa a un secondo intervento sempre nell'area a partire dall'area del Fornivese dove Dante si rifugia dopo il bando assieme inizialmente assieme ai Guelfi Bianchi cui egli appunto appartiene e alla corte di Scarpetta Ordelafi partecipa ad alcune missioni diplomatiche nella marca trevigiana possiamo dire vi ritornerà anche dopo per questo è impossibile stabilire quando nel corso di uno di questi spostamenti senz'altro a modo di vedere Venezia a modo di vedere il grande erigendo perché all'epoca era in forso di costruzione Arzena dei veneziani che non è quello attuale che verrà fuori negli anni a partire dagli anni 30 del 300 ma che certamente doveva comunque essere assai importante da vedere e poi c'è il terzo polo che a mio avviso io ho studiato a Genova e sono un po' di parte devo dire da questo punto di vista e anche per quanto riguarda la bibliografia dantesca è forse il polo più importante molti storici storici studiosi hanno calcato la mano sulla conoscenza dantesca della riviera adriatica anche per ragioni che riguardano la fine della vita del nostro il viaggio a Venezia finale di cui dicevo prima ma in realtà noi sappiamo benissimo che da partire dal 1306 e forse continuativamente almeno fino alla morte di Enrico VII colui che l'alto arrigo che lui attende la cui venuta in Italia lo attende Dante frequenta la Lunigiana frequenta la Lunigiana cui arriva con un percorso tortuoso attraverso quella selva oscura che è la Val Bormida e poi per arrivare in Canalas in questa fiumana stretta tra Siestri un borgo appenninico e Chiavari e poi procedere sulla riviera di Levante Ligure sino ai castelli dei Malaspina dello Spino Secco che sono i suoi dei Malaspina che sono i suoi protettori Moruello Malaspina è sodale e protettore a lungo protettore di Dante prima che si sposti poi presso gli scaligeri dall'altra parte ciò che ci dice è che esiste un'Italia tirrenica e un'Italia adriatica nel frattempo tra le entesi e qui in Lunigiana molto ovviamente compie una serie di missioni diplomatiche certamente rimane affascinato dalle cave quelle cave di marmo dell'Ocarrarese come dice in Inferno XX l'Ocarrarese che di sotto alberga ebbe tra bianchi marmi la spelonca si riferisce ad Arunte un famoso aruspice etrusco ma non è solo Lunigiana non è solo Carrarese è probabile che Dante si sia recato a Genova qualcuno parla anche di un viaggio a Parigi che però è molto molto incerto si basa su una semplice interpretazione di un un verso in cui citerebbe la presenza presso una determinata via parigina in realtà è molto più probabile che egli abbia cercato di incontrare Enrico VII proprio a Genova e questo ci viene suggerito dal fatto che l'imperatore sosta a Genova va a lungo per l'ottobre del 1311 e il febbraio del 1312 cioè la corte di Enrico VII si trova proprio a Genova è difficile pensare che Dante non abbia cercato di cogliere l'occasione tanto più che Moroello Malaspina a casa nei pressi di Genova abitazione Genova i contatti tra Malaspina e Genova sono contatti che risalgono addirittura a due secoli precedenti per cui è qualcosa di molto probabile anche a fronte del famoso episodio che la leggenda poi canonizzerà lo schiaffo o forse il pugno ricevuto dai sodari di Brancadoria uno dei membri delle famiglie genovesi che illustre che avrebbe avuto come corrispettivo il far precipitare Brancadoria all'inferno ancora da vivo questo è un esempio di come Dante appunto si vendicava qui è molto probabile che Dante sia stato a Genova questo lo diciamo peraltro lo dice anche Petrarca il quale afferma di essere passato a Genova da ragazzino da bambino mentre si recava da Vignone e di avere incontrato lì il poeta amico del padre e dobbiamo mettere semplicemente fidarci insomma quello che voglio dire è che molto probabilmente egli ha modo di osservare il mondo del mare in quel tratto di costa che dalla Lugiana giunge a Genova e che si può percorrere quasi esclusivamente per mare o quantomeno si percorre molto più velocemente per mare che attraversando le valli interne che sono più difficoltose nell'area dello spezzino diventano più dolci quando inizia nel Tiguglio la Val Fontana Buona che gli probabilmente conosce e che darà in Italia Colombo qualche secolo dopo però lì le comunicazioni hanno luogo per mare lì forse è l'unico luogo in cui egli può aver appreso alcuni elementi di tecnica nautica che vengono fuori termini tecnici orzare poggiare il modo di atterrare in porto il modo di alzare i remi ne parleremo tra poco questi possono essere forse gli elementi principali così anche come il suo sostare presso il monastero di Santa Croce del Corvo sempre nella stessa zona nei pressi di Bocca di Magra prima di raggiungere poi Ravenna siamo già nel 1318-19 anche essa non troppo distante dal mare se vogliamo e di morirvi al ritorno del viaggio a Venezia fra il 13 e il 14 settembre del 1321 quindi diciamo che una vita così varia come quella che è suo malgrado probabilmente ebedante probabilmente ha comportato anche la possibilità di essere direttamente sul mare che forse non era così comune per un uomo che era nato in una città interna italiana di quei tempi a quei tempi forse era meno facile per chi abitava in questo tipo di città avere un'esperienza diretta col mare la sua e il suo essere comunque una persona di rango e di avere anche un ruolo diplomatico gli facilitò probabilmente delle conoscenze che poi alla fine gli consentirono anche di fare questa esperienza ma lei mi stava dicendo che abbiamo una dimostrazione proprio dalla scelta delle parole che non si trattasse di un'esperienza indiretta insomma per esempio mi viene in mente che una cosa che tutti noi impariamo a scuola quando si studia il Dante pre-commedia sono alcune poesie super famose tipo Guido io vorrei che tu e la poi io fossimo messi in un basel che ad ogni vento per mare andasse fin lì probabilmente ci si arriva anche solo con la fantasia forse il giovane Dante non c'era stato ancora per mare però dopo lei invece mi dice che ci sono delle evidenze che non sono così generiche come quelle di un vascello così chiamato in maniera assolutamente casuale quindi nella Divina Commedia possiamo trovare qualcosa di più dettagliato parole che non sono quelle che userebbe un poeta giusto per parlare di un qualcosa di genericamente legato al mare e così ho capito bene cioè c'è un una testimonianza che possiamo ricavare direttamente proprio dai versi di Dante di un'esperienza diretta sì esattamente è un po' questa la spia cioè la presenza di termini tecnici e di osservazioni di metafore che si rifanno molto probabilmente a osservazioni precise e ovviamente questi termini queste osservazioni queste hanno uno scopo preciso cioè concorrono a costruire metafore similitudini dantesche cioè lui ha un utilizzo di queste metafore marittime che va naturalmente verso i propri scopi la stessa metafora del mare ad esempio è utilizzata in maniera ambivalente basta ho raccolto qui due passi in cui inferno in purgatorio e là si utilizza fondamentalmente per ambiti completamente diversi faccio questi due esempi in inferno otto chiama virgilio il mar di tutto il senno cioè il mare come virgilio come il depositario di tutta la la sapienza antica che naturalmente è grande come il mare e invece in purgatorio il primo canto del purgatorio chiama il mare crudele per dare l'idea di un'idea di vastità percorrere miglior acque dice alza le vele ormai la navicella del mio ingegno che lascia dietro a sé un marsi crudele l'inferno come un mare di perdizione quindi siamo qui ai due poli opposti il mare di tutto il senno e il mare di perdizione dunque lui utilizza le metafore queste immagini anche per lo scopo della commedia a me ha sempre fatto sognare senza entrare poi nel dettaglio di ciascuna quel suo tremolar della marina bellissimo purgatorio 1 sempre l'alba vinceva l'ora mattutina che fuggia sì che di lontano conobbi il tremolar della marina è un'immagine meravigliosa per descrivere il mare che circonda la montagna del purgatorio restituendo che cosa il momento in cui all'alba l'orizzonte la linea il filo dell'orizzonte può essere colto soltanto guardando il tremolio delle onde perché perché si confonde con l'immensa volta celeste nella luce incerta del mattino quindi è un'immagine che rispetto al cupo inferno quel mar di perdizione marsi crudele di cui parlava prima è un'immagine molto diversa segno di speranza di lì di tranquilli l'alba vinceva l'ora mattutina che fuggia sì che di lontano conobbi il tremolar della marina e questo è il modo in cui Dante utilizza le metafore marittime che peraltro quest'ultimo verso fa pensare a qualcosa di realmente visto cioè in qualche modo sono quelle cose che mentre se io dico un mare di dolore insomma posso usare mare come sostituto di qualcosa molto grande questa è una descrizione precisa insomma divida precisa che appunto sa di esperienza ecco come anche utilizza la metafora del ammainare le vele raccogliere i cordane le sartie o sarte per indicare la stagione della vita quando siamo nell'inferno 27 quando mi vidi giunto in quella parte di mia etade ove ciascun dovrebbe calare le vele e raccogliere le sarte cioè mettere come si dice oggi remi in barca in quel caso all'epoca si mettevano le sarte da parte sotto coperta perché si stava ormai entrando in porto in questo caso l'ultimo viaggio quindi sono metafore eccezionali al di là di questo c'è però il dato concreto quello che noi possiamo ricavare da queste metafore secondo lei da questo tipo di descrizioni anche se poetiche è possibile anche arrivare a capire qual era il tipo di navigazione che si faceva a quei tempi quali erano le conoscenze più tecniche che c'erano in epoca medievale su come si fanno le navi insomma su come si naviga e così via esattamente è stata questa la sfida e al termine di questa sua disannina che cosa possiamo ricavare su quella che era la conoscenza del tempo almeno in ambito italiano immagino insomma sulla navigazione esatto è stata proprio questa la sfida il problema della medievistica o di coloro che si occupano di storia marittima e navale per questi secoli è quello di possedere poche fonti non che non manchino abbiamo soprattutto atti notarili noi sappiamo nel medioevo si andava dal notaio per qualsiasi cosa anche per organizzare una spedizione corsara fortunatamente per il duecento abbiamo notizia di questi atti notarili così come abbiamo da questi atti notarili di organizzazioni di spedizioni marittime così come abbiamo notizia all'interno delle opere di alcuni geografi dell'avvento del diffondersi della bussola e quindi di una rivoluzione nella navigazione che passa ad essere una navigazione stimata il tentativo di stimare il punto navole con bussola e con passo guardandosi agli astri ma con degli strumenti che permettono di conoscere con maggiore precisione quantomeno dalla latitudine e dunque la bussola come elemento importante però ecco non siamo in un periodo in cui tutto questo viene vergato sistematicamente nel 300 il 300 già è diverso perché a partire dalla metà del secolo cominciamo ad avere una serie di fonti molto importanti che sono i registri di bordo che sono estremamente tecnici in partita doppia addirittura all'interno dei quali sono segnate le attrezzature la paga dei marinai il vitto comprato per il viaggio le rotte seguite e tutto ciò che può essere qui dalla metà del 300 siamo piuttosto informati sul modo di navigare periodo precedente ma è un problema allora quello che Dante inserisce che è molto che è molto non so se abbiamo tempo per parlare di tutto di tutti gli aspetti ma è molto vi assicuro è diventa dunque estremamente importante per ricostruire la marineria di questo particolare periodo l'inizio del 300 l'inizio del secolo devo fare qualche esempio certamente io partirei dalla descrizione del Mediterraneo stesso perché ci dice comunque come Dante fosse in ogni caso ancorato a una cultura geografica di matrice letteraria benché proprio nel suo tempo comincino a diffondersi le carte nautiche che rappresentano solamente le coste innanzitutto del Mediterraneo con riportati i porti principali una selva di porti la navigazione dell'epoca era generalmente una navigazione di cabotaggio però al di là di questo benché Dante probabilmente non conosca la carta nautica in sé tutto ciò che gli deriva è piuttosto un frutto di esperienza allora partirei proprio dalla descrizione del Mediterraneo che Dante fa per passare poi a qualche elemento estremamente interessante per il nostro discorso lo sappiamo la descrizione è contenuta in Paradiso 9 e Dante scrive la maggior valle in che l'acqua si spanda incominciaro allora le sue parole fuor di quel mar che la terra inghirlanda tra discordanti liti contro il sole tanto sembra che fa meridiano là dove l'orizzonte pria far una parole complesse che su cui si sono esercitati legioni di dantisti la maggior valle in cui l'acqua si espande al di fuori di quel mare che circonda tutta la terra la maggior valle è il Mediterraneo è un avvallamento all'interno del quale si espande l'acqua che proviene dall'oceano che inghirlanda la terra che cosa ha in mente Dante? una mappa TO una mappa orbis terre mappe caratteristiche del periodo in cui lui vive che non sono precise come le carte nautiche ma che più che altro tramandano una visione compatibile rispetto alle carte nautiche una visione di natura amorale con il Mediterraneo al centro TO e i tre continenti a separare la stanghetta della T e la O l'oceano che inghirlanda la terra e dunque questo è il Mediterraneo che la cultura letteraria e filosofica di Dante del tempo viene tradito da Dante però al di là di questo a parte questo Dante si dimostra fine osservatore fine osservatore innanzitutto di fenomeni marittimi fenomeni marittimi come da quello come il moto ondoso per dire o come le maree o come ancora il ciclo dell'acqua cui alla fine della propria vita lui dedicherà una vera e propria questio la questio di acqua e terra siamo già nel 1320 quindi alla vigilia della della morte in cui emerge chiaramente l'interesse per un fenomeno che è prettamente naturale lui descrive come avviene questo ciclo un po' come l'ha imparato mio figlio all'elementari lo scorso anno esattamente come era spiegato nel suo libro io infatti gli ho mostrato queste tre parti dantesche che vado a leggervi ben sai come nell'are si raccoglie quell'umido vapor che in acqua riede tosto che sale dove il freddo il coglie è chiaro che il vapore salendo becca il freddo e fa piovere ecco questo era studio naturalistico alla società dei naturalisti non potevamo non parlare ovviamente sono le parole di buon conte di Montefeltro figlio di Guido di Montefeltro che era stato capitano a Firenze e siamo nel purgatorio oppure sempre nel purgatorio in questo caso 14 prima eravamo nel quinto infin là ve si rende per ristoro di quel che il ciel della marina asciuga ondanno i fiumi ciò che va con loro cioè sino al punto in cui restituisce le proprie acque per ripagare della quantità d'acqua che il sole assorbe con l'evaporazione di nuovo oppure sempre in purgatorio 28 l'acqua che vedi non surge l'ivena acquifera che ristori vapor che il gel converta come fiume che acquista e perde l'ena cioè il ruscello che vedi dice non nasce da una sorgente alimentata dai vapori acqui convertiti in pioggia nel contatto con gli stati freddi dell'aria insomma questo ci mostrano ancora una volta che Dante è un fine osservatore allora cosa ci dice sul mare cosa ci dice sul mare innanzitutto osserva le onde cosa non da poco come fa l'onda la sovra Cariddi stretto di Messina scilla e Cariddi presso cui mai va in questo caso utilizza qualcosa che ha visto per parlare di un altro posto ma evidentemente la cosa gli serve come fa l'onda là sovra Cariddi che si frange con quella in cui si intoppa così conviene che qui la gente riddi come fa l'onda dello Ionio presso Cariddi che si frange con quella del Tirreno presso Scilla con cui si scontra così allo stesso modo bisogna che qui la gente si muova siamo nell'inferno descrive i dannati che si muovono come onde che si infrangono tra loro oppure in Purgatorio 10 noi salavamo per una pietra fessa che si muoveva ed una ed altra parte sì come l'onda che fugge e s'appressa noi salivamo attraverso un sentiero inciso nella roccia che procedeva sporgendo e rientrando che si muoveva ed una ed altra parte al pari di un'onda che si ritira e avanza alternativamente oppure ancora quali fiamminghi tra guizzante e bruggia temendo il fiotto che in ver l'or s'anventa fanno lo schermo perché il mar si fuggia a tale immagine erano fatti quelli tutto tutto che né si alti né si grossi qual che si fosse lo maestro felli difficile attenzione allo stesso modo che i fiamminghi tra wissant e bruges temendo l'ondata di marea oppongono un riparo perché il mare si ritiri in che modo erigendo delle dighe a somiglianza di quello erano fatti questi eccetera eccetera insomma in questo caso sono osservazioni che gli derivano molto probabilmente da un'esperienza di vetter però non sono le più importanti non sono affatto le più importanti perché le più importanti riguardano esattamente la costruzione navale e il modo di navigare quindi una conoscenza che ha a che fare anche con i cantieri in qualche modo assolutamente paradossalmente potremmo quasi costruire un libro di manuale di costruzione e di navigazione proprio seguendo la sequenza che ci viene proposta da Dante stesso che inizia in un cantiere e che si conclude dopo aver analizzato le parti del Natante fondamentalmente con un viaggio con il viaggio per mare il cantiere questo immagino che lo si conosca a tutti è quello veneziano queste sono sono versi diciamo immortali ma è bene sempre ripeterli è anche piacevole farlo quale nell'arzanà dei veneziani bolle l'inverno la tenace pece a rimpalmare i legni lor non sani che e navicar non ponno in quella vece chi fa suo legno nuovo e chi ristoppa le coste a quel che più viaggi fece chi ribatte da proda e chi da poppa altri faremi e altri volge sarte chi terze ruolo e artimon rintoppa è una selva di elementi estremamente tecnici ed estremamente importanti come nell'arsenale dei veneziani bolle d'inverno la tenace pece per spalmarla di nuovo sulle navi danneggiate approfittando del periodo in cui la navigazione è ridotta e in quel frangente c'è chi costruisce nuove navi chi chiude con la stoppa le falle aperte nei fianchi le coste dell'imbarcazione del legno che ha compiuto molti viaggi chi rinsalda e rinforza con i chiodi la prua e la poppa chi faremi a chi avvolge le canape così da ottenerne cordami fumi le sarte chi rattoppa le vele piccole terzerolo terzeruolo o grandi l'artimone allo stesso modo i dannati bolliscono bollivano nella pece densa questa è la metafora e qui c'è già un po' tutto abbiamo già le caratteristiche dei natanti del tempo che la gente dell'epoca chiamava semplicemente l'igna perché perché fondamentalmente erano costruiti di legno con vari materiali si utilizzava la quercia per la parte immersa il faggio per la parte sovrastante poi gli alberi grandi alberi fatti appunto con abeti larici di parecchi metri e Dante nota il modo soprattutto descrive l'attività della cosiddetta calafatura che era un'attività fondamentale derivante dalla particolare tecnica costruttiva utilizzata nel Mediterraneo per in questo caso Ugalè ma anche per le grandi navi commerciali la cosiddetta tecnica a Carvel che prevedeva di come dire fissare il legname i corsi di fasciane non voglio essere tecnico comunque le fasce del legname a paro cioè affiancandole l'una all'altra in questo senso il Mediterraneo si distanziava dalle tecniche costruttive atlantiche e nordiche che usavano invece sovrapporre il fasciame nella cosiddetta tecnica sormonto questo è importante perché affiancare le tavole di fasciame significava far sì che potesse entrare l'acqua attraverso le fetture attraverso i commenti tra una tavola e l'altra allora il legno la galea la nave doveva essere impeciato e doveva passare attraverso questa operazione si pigliava della stoppa la si imbeveva di pece la si inseriva all'interno dei commenti poi si spolmava di segol tutto evidentemente qualche volta di pece poi si faceva riscaldare la pece stessa insomma si cercava di rendere impermeato se vogliamo il natante e dopodiché si metteva in mare il tutto il mare allargava le tavole che stringevano la stoppa nel mezzo dei corsi e così si garantiva almeno per qualche tempo la tenuta stagna dell'imbarcazione e tutto questo è contenuto all'interno di queste di questi di questi versi molto interessanti ma Dante ci descrive anche altrove le vele basta pensare a Inferno 24 vi leggo questa sotto ciascuna uscivano due grandali quanto si convenia tanto uccello vele di mar non vidio mai cotali e qui forse c'è una testimonianza autoptica non ho mai visto vele così grandi ma evidentemente qualcuna ne ho vista ecco e di questo ce ne accorgiamo soprattutto se noi guardiamo a quel gruppo di metafore quel gruppo di diversi che parlano in particolare del modo di navigare qui abbiamo veramente una casistica molto interessante che si può proprio catalogare seguendo un eventuale viaggio del mare proviamo a calarci nella nelle vesti di un pellegrino del tempo o di un viaggiatore come può essere stato Dante del tempo e prendere il mare insieme a Dante professore posso farle una domanda innanzitutto questo proposito un viaggio di quei tempi prevedeva che ci fossero molte interruzioni cioè si andava per piccoli tratti oppure si navigava a lungo no la navigazione all'epoca era prevalentemente una navigazione di cabotaggio questo per motivi che erano tecnici ma anche semplicemente pratici per poter sbarcare rifocillarsi oppure caricare soprattutto sulle galee dove lo spazio era estremamente risicato in continuazione vettovaglie e in particolar modo acqua immaginiamoci una galea un legno di circa 39 metri che cosa è una galea tecnicamente com'è ha ragione spieghiamolo il medioevo conosce due tipi nautici fondamentali la galea e la navis non si tratta di navi in generale la parola navis era utilizzata solamente per le grandi navi commerciali molto alte sull'acqua quindi con più di un ponte dotate di due o tre alberi in genere a vela latina poi arriverà la vela quadra e molto diverse dalle galee le galee erano invece legni molto sottili bassi sull'acqua lunghi appunto come dicevo circa 39 metri 39-40 metri mossi sia a vela la propulsione era prevalentemente velica un unico albero oppure due alberi con le galee grosse forse anche tre nel corso del 300 genere latina e però recavano a bordo anche una seconda propulsione i rematori i vogatori inizialmente nel 200 120 poi a seguito di una innovazione tecnica con l'introduzione del terzo uomo per banco nel 300 sino a 180 immaginatevi una battaglia in cui si scontravano da un lato 90 galee dall'altro 80 galee quindi erano migliaia e migliaia di uomini posti a remo non da forzati da uomini liberi era un modo per sbarcare il lunario si era regolarmente stipendiati per questo ed era dunque un panorama che qualsiasi viaggiatore avrebbe visto proprio in quando si ai principali porti non solo italiani ma diciamo mediterranei navi da un lato e galee da un l'altro le navi utilizzate per il commercio le galee prevalentemente per la guerra o per gli spostamenti veloci quindi per le ambasciate e tutto ciò che poteva appunto sfruttare il mare e queste probabilmente sono le galee che colpiscono Dante perché è ad alcune manovre che si compiono prettamente a reni generalmente quando si arriva in porto quando si parte si lascia il porto che Dante prevalentemente si riferisce e allora quindi possiamo dire che un pellegrino che si dovesse arrivare in Terra Santa e immaginiamo un viaggio lungo non lo avremmo trovato su una galea lo avremmo trovato su una nave di queste qui diciamo una navis oppure si usavano anche quelle galee se fossimo nel 200 se fossimo nel 200 prevalentemente il pellegrino avrebbe scelto la navis che compriva meno soste rispetto alla galea potendo imbarcare più vettovaglie ma che comunque era restava un bascello lento in generale nel 300 in realtà la situazione è più complessa i pellegrini stessi cominciano a prediligere una forma particolare di galea che viene chiamata nelle fonti galea grossa la quale è semplicemente più amplia e possiede un camerone a poppa che riesce ad ospitarli quanto meno per la notte perché prediligono la galea perché è armata perché il Mediterraneo del 300 è un mare che pullula di pirati e di corsari ed è necessario difendersi e a bordo della galea ci sono sempre dei super salientes così si chiamano cioè dei soldati in genere balestreri erano presenti anche sulle naves ma la galea riesce a difendersi meglio allora molti pellegrini prediligono la galea se Dante avesse voluto spostarsi dalla lunigiana diciamo a Genova molto velocemente probabilmente avrebbe scelto la galea professore non si smetterebbe mai di fare le domande su questi argomenti perché si apre un mondo si sente parlare di pirati e quindi si comincia a immaginare quello che doveva essere credo che poi i pirati saraceni fossero una componente da non sottovalutare in questo ambito in realtà non i saraceni in realtà non i saraceni noi siamo in questo periodo la pirateria è prettamente un fenomeno cristiano latino in che senso e i nostri se le danno di santa ragione nel corso degli anni 80 90 del 200 Dante appena 20-30 anni Pisani e Genovesi combattono una lunga guerra c'è una battaglia importante la Meloria ma il resto è guerra di corsa a tutto spiano tra Genova e Venezia c'è un conflitto secolare che inizia dopo la quarta crociata all'inizio del 200 finisce nel 400 con poche battaglie e una guerra di corsa che è continua i genovesi addirittura istituiscono un ufficio della pirateria che serve da schermo diplomatico nel senso che ha un proprio capitale che fanno fruttare con una serie di investimenti che serve a risarcire quelle potenze con cui il governo ufficiale quelle potenze colpite dalla pirateria genovese con cui il governo ufficiale non vuole avere problemi per cui hanno una cassa apposita per l'ufficio un robarie si chiama qui è un mondo un mondo complesso un mondo che sta sul mare e che appunto sul mare vive e Dante osserva questo mondo vorrei semplicemente leggere a questo proposito due o tre di queste metafore perfettamente marinare proprio per far comprendere come sia la galea probabilmente l'oggetto di osservazione dantesco innanzitutto Dante ci descrive la partenza siamo nell'inferno 17 come la navicella esce di loco indietro indietro si quindi si tolse come la nave come probabilmente la galea si allontana dalla riva indietreggiando con la poppa a poco a poco così Gerione si staccò dall'orlo ebbene questa è già probabilmente la descrizione di un'evoluzione della galea la quale nel secolo precedente conosceva una certa anfidromia si chiama cioè la poppa e la prora erano simili questo perché nel momento in cui si allava la galea su una spiaggia bisognava riprendere il mare con la spiaggia all'epoca di Dante invece le soprastrutture soprattutto il castro di poppa il castello di poppa il castro è già una struttura più importante della nave sono cresciute pertanto è complesso operare qualcosa del genere se non tramite i remi ecco questo indietro indietro è probabilmente compiuto dai rematori che in questa maniera escono dal porto in Paradiso 25 invece ci descrive proprio una situazione che deve aver visto da qualche parte siccome per cessar fatica o rischio gli remi pria nell'acqua ripercossi tutti si posano al sonar d'un fischio così come per far terminare la fatica o per evitare un rischio una secca uno scoglio affiorante i remi che prima sono ripercossi nell'acqua in continuazione si posano tutte insieme al suonare di un fischio e poi la metafora continua lui ci descrive l'operazione dell'arrestarsi della voga e la presenza di quest'uomo col fischietto forse il nocchiere o il comito il comito aveva probabilmente questa questa funzione che appunto dava dava termine alla voga c'erano tipi di voga differenti che lui non descrive ma questa è un'operazione interessante e poi l'inversione di rotta questa è qualcosa di eccezionale la galea probabilmente in questo caso la galea che a un certo punto riesce con un'operazione particolare a invertire la propria rotta magari perché deve fingire appunto dai pirati ecco siamo paradiso 27 che la fortuna che tanto s'aspetta le poppe volgerà usun le prore sì che la classe cioè la flotta correrà diretta e vero frutto verrà dopo il fiore e poi l'operazione dell'atterraggio in porto come si dice siamo sempre nel paradiso 13 e legno vidi già dritto e veloce correre lo mar per tutto suo cammino perire al fine all'intrar della foce l'operazione per cui appunto i rematori si arrestano e lasciano che il legno prosegua per inerzia sino a che il moto si esaurisce estremamente importante no e poi anche l'operazione del fallito atterraggio in porto paradiso 13 sempre e legno vidi no questa che questa l'ho già letta e poi ecco lo dicevo l'operazione del come si manovrano le vele durante questi eventi onde il piegò come nave in fortuna vinta dall'onda attenzione orda poggia orda orza orzare poggiare sono operazioni nautiche che noi conosciamo ancora oggi sono termini che si utilizzano ancora oggi oppure dicevo prima il fallito atterraggio in porto a seguito dello spezzarsi dell'albero maestro quali dal vento questa è celebre le gonfiate vele caggiano a volte poi che l'alber fiacca tal cadde atterra la fiera crudele come le vele gonfiate dal vento cadono avvilluppate quando l'albero maestro si spezza allo stesso modo cadde a terra la belva crudele riferimento ovviamente a Pluto e poi se posso terminare con con l'ultima anch'essa estremamente bella il naufragio l'esperienza del naufragio noi ci rallegrammo anche questo è celebre e tosto tornò in pianto che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno ecco il termine l'ignum il primo canto tre volte il fe girar con tutte l'acque alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù come altrui piacque infin che il mar fu sopra noi richiuso è naturalmente il naufragio di Ulisse è decisamente tutto questo questo escursus che ha fatto il professore non fa che confermare l'impressione che Dante di Mare ne sapesse non fosse soltanto una conoscenza che aveva acquisito dai libri o sentendo le altre persone io credo che se possiamo aggiungerne ancora una giusto per completare il quadro perché abbiamo parlato di manodre abbiamo parlato di alberi che si spezzano poggiare orzare eccetera però in realtà lui osserva anche gli uomini allora io concluderei con ancora un paio di se posso rubare ancora un minutino perché c'è questa immagine che è ancora che è di nuovo straordinaria del marinaio che cerca di disincagliare l'ancora che rimane sul fondo marino e che non permette al legno di muoversi siamo dunque siccome torna colui che va giuso così lo chiama talora assolver l'ancora che aggrappa o scoglio o altro che nel mare chiuso siamo in inferno sedici che in su si stende e da pie si rattrappa oppure la figura del nocchiero un purgatorio due ed ecco qual sorpreso dal mattino per li grossi vapor marte rosseggia giù nel ponente sovra il suol marino e quei se invenne arriva con un vasello snelletto e leggero tanto che l'acqua nulla ne indiettiva da poppa stava il celestial nocchiero tal che faria beato pur descritto eccetera e insomma qui è una selva di una miniera una miniera di informazioni ne abbiamo solamente descritte alcune c'è la descrizione della tempesta c'è la descrizione dei delfini e c'è ancora un pensiero finale ai naviganti con cui vorrei concludere perché sono versi che mi hanno sempre emozionato moltissimo devo dire questi sin dagli studi liceali purgatorio 8 era già l'ora che volge il disio ai naviganti e intenerisce il cuore lo dì c'han detto ai dolci amici addio e che lo novo peregrin d'amore punge se ode squilla di lontano che paia il giorno pianger che si more era arrivata l'ora che richiama ai naviganti lo struggente affetto per le persone le cose care lasciate a terra nella giornata in cui hanno salutato i cari amici cioè il primo giorno nel momento in cui sono partiti e che trafigge di lancinante amore chi si è da poco allontanato dalla propria terra si avverte si avverte in lontananza il rintocco di una campana che sembra piangere la fine del giorno una immagine di una bellezza poetica straordinaria assolutamente e non possiamo che ringraziarla per aver terminato con questi versi che tutti abbiamo studiato quando eravamo ragazzi e che si sono proprio piantati dentro di noi fermamente nel corso degli anni perché è un'esperienza che tutti noi facciamo quella della separazione in un modo o in un altro anche se non andiamo per mare e in qualche modo queste parole dicono tutto quello che ognuno di noi ha provato in certi momenti della propria vita non posso che ringraziare ma veramente di vero cuore il professor Musarra per questa interessantissima conversazione che abbiamo avuto e ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato e che hanno voluto seguirla grazie a tutti davvero e buona serata arrivederci buona serata a tutti buona serata a tutti